Allora, giriamo la sedia sempre a livello di carne, stiamo lavorando un po' le gambe, schiena di pitta, una gamba alla volta, senza toccare a terra, stendo e porto dietro. Ne facciamo 15 così, 15 a destra, 15 a sinistra per tre volte, poi ci portiamo al bordo di sedia. Facciamo la stessa cosa, 1 e 2, sempre 15 a destra, 15 a sinistra per tre volte, poi ci accoggiamo con le braccia, stendiamo la gamba e stariamo senza toccare a terra, siamo sempre al limite della sedia, 15 a destra, 15 a sinistra, ok? Sende per tre volte, con la sedia possiamo fare l'esercizio che abbiamo fatto con la scatola, ci alziamo e ci sediamo, ci alziamo e ci sediamo, ok? Ovviamente questa volta chiudiamo le gambe, con la sedia, uno è quasi pieno, 15 volte ci riposiamo, lo facevano due volte, le gambe oggi vanno bene così.